Si è tenuta ieri sera presso il teatro De Berardinis di Vallo della Lucania la decima edizione di Momenti d'Autore, progetto artistico-culturale nato nel 2009 dall'idea di Michele Toriello, oggi Art Director della Rassegna. Un evento che si svolge annualmente nelle meravigliose cornici del Cilento e che ne valorizza territorio, culture e tradizioni, che ha visto la partecipazione dei trombettisti Andrea Tofanelli, Andrea Giuffredi, la star inglese Georgina Jackson e la MJF All Star Band. È una grande emozione, questa decima edizione quest'anno racchiude tutti i sacrifici fatti in questi anni, ospitando artisti di livello internazionale e travalicando anche i confini del paese. Abbiamo stasera Georgina Jackson che è una star inglese che per dirne una ha venduto dischi quanti all'epoca ne ha venduto Miles Davis. Quindi parliamo di un artista primario, artista trombettista e cantante di rilevanza internazionale. Insieme per la prima volta in Italia ad Andrea Giuffredi e Andrea Tofanelli, che sono due artisti nostriani di fama internazionale. Valorizzazione del Cilento, quindi delle tradizioni e delle culture cilentane, insieme all'arte e alla cultura, nelle sue diverse forme con l'unico volano grande che è la musica, l'unico volano universale. Da qui, dall'auditorio del Berardini, si partirà questo progetto di Vallo Città della Musica, insieme allo SCABEC e la Regione Campania. Sarà un grande progetto che ci vedrà protagonisti e ci vedrà affiancati in questo percorso dal Comune di Ravello, con cui sottoscriveremo a breve una convenzione proprio per questo Vallo Città della Musica, perché il teatro dei Berardini sa la sua importanza, la sua valenza come grande auditorium, però non dimentichiamo il tesoro prezioso che abbiamo sotto questo pavimento, che sono tutte le sale dove si può crescere artisticamente. Noi stiamo investendo su questo tipo di progetto formativo, che parte appunto da sotto l'auditorium del Berardini, per poi vedere i frutti sul palco di questo bellissimo auditorium.